La rassegna stampa di Fano TV, buongiorno, sono le 7.30 in diretta, come tutte le mattine. Allora, siamo sul canale 17, naturalmente tra poco vedremo e sfoglieremo i giornali. Se vi chiamate Matteo auguri di buono nomastico perché oggi la Chiesa Cattolica ricorda San Matteo Apostolo, un santo di quelli importanti. Il sole è sorto alle 6.54 e tramonterà 8 minuti dopo le 7 di sera. Allora, il cielo per oggi sarà irregolarmente nuvoloso, soprattutto la mattinata. Non si escludono rovescio temporali nelle zone interne e occasionali nelle zone collinarie. Le temperature sono in diminuzione nei valori massimi per la giornata di oggi. Per domani, giovedì 22 settembre, invece cielo sereno poco nuvoloso, con temperature in diminuzione le minime venerdì. Venerdì 23 settembre, cielo sereno poco nuvoloso, con precipitazioni che saranno assenti per fortuna su tutta la regione. Temperature minime in lieve diminuzione e le massime in lieve aumento. Avremo però da venerdì condizioni tempo stabili e soleggiate per l'intero fine settimana. Allora, ci sono le ultime notizie della notte. Andiamo a vedere subito il touchscreen, perché il touchscreen ci mostra le immagini di un incendio. Eccole qua. L'immagine di un incendio che è avvenuto nella notte. Vi do anche alcuni particolari. È un incendio che è avvenuto, questo dovrebbe essere forse un Mercedes, intorno alle 2 di notte, in via Soncino, dietro l'asilo Zizi. Alle 2 di notte c'è stata questa auto in fiamme. Andiamo a vedere, forse abbiamo anche le immagini di quest'auto in fiamme. Eccole qua, le immagini. Ce le ha inviato un nostro reporter di strada, che chiaramente ringrazio. A lui 5 euro di ricarica nelle prossime ore per questa segnalazione esclusiva. E poi abbiamo anche altre informazioni. Due autopompe con i vigili del fuoco, un'auto della polizia. Non si segnalano feriti e quindi adesso bisognerà semplicemente capire qual è l'origine di questo incendio. Se accidentale, quindi problemi alla macchina, oppure di altra natura. Naturalmente tutte le informazioni di questa sera nel telegiornale delle 8. Andiamo subito a leggere i giornali. La pagina di Fano del Corriere Adriatico avverrà tra 7 giorni. Restano il marchio e gli sportelli. La Fisac dice doppia ansia. Il CDA, il Consiglio di Amministrazione guidato da Giacobbi, sarà zerato e verrà smantellata la direzione generale. Sarà inevitabile qualche trasferimento. Tutori, i tutori salgono sugli scuolabus. È la decisione del Comune per evitare i ripetersi di disguidi sui percorsi. Ancora disagi a Ponte Sasso e a Carrara, contenuti in ritardi accumulati lunedì. Ma il servizio non è ancora a regime, anche perché molti ora preferiscono accompagnare di persona i figli. Mascarin indichi chi è il responsabile, lo chiede Pierpaoli di Fano Città Ideale. Chiede anche perché non ci sono prevenuti questi problemi. L'altra pagina del Corriere, strada buia e sporca, nessun evento e niente arredi. In via Garibaldi esercenti delusi fuori anche dal comitato del centro. Zona frequentata solo al mattino per le poste. È senza illuminazione e la gente ha paura. Ladri e vandali danneggiano, fanno fiorisce. Si è distrutti o rubati i decori floreali di un paio di negozi, smettetela con questi atti. Questa è la richiesta di una degli esercenti, dell'esercenti che è stata colpita, come Barbara Marcolini, che ha un negozio proprio lì, che si affaccia su Piazza 20 Settembre. Poi c'è anche la storia raccontata sul Corriere di oggi del fenicottero rosa, che è stato preso in consegna dal CRAS, il centro recupero di animali selvatici. Un fenicottero rosa prelevato per essere visitato e curato. Una volta riabilitato, poi verrà rimesso nel suo ambiente naturale. L'altra pagina del Corriere è quella di Fano. Sara e Anna suggellano l'amore celebrata alla prima unione civile. Le due trentenni hanno formalizzato il rapporto davanti ad una funzionaria. E queste sono le pagine di Fano. Opriamo quella di Pesaro, del Corriere. Addio a Massimo Monsagrati, sua l'epica della banda grossi. Scrisse il libro a quattro mani con Uccioni, che lo ricorda adesso con commozione. Aveva 68 anni, scrittore e docente di italiano, una personalità che ha lasciato un segno nella letteratura pesarese. Questo è l'articolo in apertura sulla pagina di Pesaro. E poi quella di Fossombrone, invece, che si occupa del REMS. Slogan per le elezioni, la minoranza incalza il sindaco. Saccomandi, di Unione per Fossombrone, chiede risposte sulla documentazione. Senigallia, blizza antidroga, la polizia al campus scolastico. Gli agenti hanno controllato zaini e tasche degli studenti dopo le segnalazioni. Ulteriori verifiche sono state effettuate all'uscita delle lezioni. Ci saranno altri interventi a sorpresa. Sono scattati i primi controlli nelle scuole, parla in questo articolo il commissario di Senigallia, Agostino Maurizio Licari. E sotto, invece, escluso dall'eredità, scatta il putiferio, furibonda, lite tra madre e figlio, in un appartamento al Parco della Pace. Questo è il Corriere. Andiamo sul Carlino. Snipper, l'aereo in legno, il sogno diventa realtà. Quello è il sogno di Francesco Garulli, che dopo una passione per il modellismo, ora vuole un sul velivolo costruito con le sue mani. Bravo e anche coraggioso. Abusivismo, multe per chi compra, giro di vite della municipale, il paso della Confcommercio, anche il comune si muova. Poi, sgambatoio con parking nel fossato della Rocca, sempre a Pesaro e sotto. Il comune taglia sempre a Pesaro l'orario notturno delle slot machine, proibite dalle 23 esercenti d'accordo. Il premio è uno sconto sulla tariffa, sulla Tari. La pagina di Fano del Carlino. Quei bambini piangenti, terrorizzati dai pulmini. Mamma, non ci salgo più. Continua il caos. Scuolabus, il comune finisce nel mirino ad accusare. Adesso all'amministrazione c'è anche l'ex sindaco di Fano, Stefano Guzzi, che dice che sono tutti pressa pochisti. Pierpaoli, invece, i genitori sono costretti a fare da navigatori. Ora il comune corre ai ripari, suoi accompagnatori di garanzia, sui mezzi. Il provvedimento urgente dell'assessore Mascherino, per evitare altre grane, e anche il sito si adegua. Gioco dell'oca, invece, sul dregaggio. Si torna alla via, analisi scadute e niente progetti. Un disastro, l'attacco dei 5 Stelle contro l'amministrazione. Fano in coda, l'autorità portuale deve lavorare anche per Ancona, Numana e Civitanova Marche. Poi l'altra pagina del Corriere. Vietate le slot machine per tutta la notte. il comune di Pesaro riduce il gioco a 13 ore, accordo con gli esercenti. Delle Noci dice per loro, dimezzata la Tari, multa da 25 a 500 euro per chi non rispetterà i termini del provvedimento. Ed era l'ultima pagina della nostra rassegna stampa, che torna domani mattina, come sempre, puntuale 7.30. Stasera alle 8.30 ci vediamo per il Tg Occhio alla Notizia. Arrivederci. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS